Buonasera amici Granata di Toro News, anche questa giornata avvolge il termine. I ragazzi hanno appena finito la seconda parte di allenamento dopo aver svolto una partitella a ritmi anche elevati, subito immobile si è messo in mostra con un grande gol raso terra che si è infilato alle parti di Gomis. Domani la giornata ricomincerà di nuovo dalle prime ore del mattino, alle 9 è previsto la prima parte di allenamento e poi di nuovo al pomeriggio. Ora, allora vi saluto e chi avesse notizia anche di Manolo Chirico che ci ha lasciato qua dal ritiro per ritornare a Torino ci faccia sapere. Grazie e buona serata a tutti.